Siamo con il dottore Righetti che in pochi minuti ci deve sintetizzare l'importanza di questa giornata. L'importanza di questa giornata è che finalmente una regione d'Italia ha approvato la legge regionale per l'organizzazione dell'integrazione socio-sanitaria, cioè per la cura e la riabilitazione esclusivamente domiciliare delle persone portatrici di malattie croniche o cronico-degenerative o eredo-degenerative. Cosa significa esclusivamente domiciliare? Nel senso che queste cure, queste attività e queste modalità di presa in carico si svolgono esclusivamente a domicilio delle persone. Si stanno aspettando a costo di costruirglielo il domicilio, se non ce l'hanno. La ringrazio.